Buonasera amici e amici rossoneri, bentrovati sul canale YouTube ACM Style per l'ultimo appuntamento quotidiano che riguarda proprio le novità del nostro esterno sinistro tanto chiacchierato. Il Milan prende posizione sulla questione di Raffa Leao, l'attaccante portoghese che è rimasto in panchina contro Udinese, che poi è stato sostituito a San Siro contro il Bruges è rimasto comunque, pare che sia dispiaciuto, si rende conto di vivere comunque un momento complicato, un momento difficile e vorrebbe riuscire ad essere più incisivo per aiutare tutta la squadra. I dirigenti lo aspettano e cercano comunque di fare scudo intorno a lui, provando a togliere un po' di pressione che si è creata entorno al giocatore in questo periodo. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, da quello che si evince, ha parlato con l'entourage del calciatore. Leao è in questo momento giù di corda e sta aspettando un'occasione per riscattarsi e pare che non ci siano particolari problemi con l'allenatore Paolo Fonseca. La società ritiene che Raffa comunque sia il più bravo giocatore in questo momento che ha nella Rosa e che non può essere un grande Milan senza Raffa Leao. Quindi Leao andrà recuperato al meglio, coinvolto e reso sempre più partecipe all'interno del progetto. Compiti che ovviamente spettano a Fonseca, l'allenatore. Ovviamente la società da quanto si evince farà il possibile per fare in modo che Leao e Fonseca ritrovino un feeling vincente, senza però voler intervenire direttamente sulle scelte tecniche. In vista della prossima trasferta di Bologna non ci sono al momento favoriti fra Okafor e Leao. Certo Raffa Leao dovrà metterci del suo per convincere l'allenatore. Servono più precisione, più concentrazione, più voglia di fare e di mostrare una splicazione e uno spirito di sacrificio che devono essere ben diversi da quelli visti fino adesso. Fonseca si aspetta da Leao che metta in pratica questi propositi per riprendersi in Milan già nelle prossime sessioni di allenamento a Milanello. Leao comunque è deluso anche con se stesso per non riuscire a essere incisivo. Ha perso e si vede tanto il sorriso ma vuol far di tutto comunque per ritrovarlo. Sotto l'ultimo post di Camarda una piccola chicca gli ha scritto sei un milanista vero piccolo mio quindi grande stima da parte di Leao verso Camarda, grande affetto, grande dimostrazione di unità di squadra. Gli ha messo anche due cuoricini rossoneri e per la società non ci sono orizzonti temporali. Non pensa a cosa potrà essere di Leao a gennaio o nella prossima estate semmai è la gente di Leao che potrà guardarsi intorno sul mercato. L'estate scorsa qualche segnale, qualche timido segnale era arrivato anche da Barcellona che però resta in enorme, immensa crisi finanziaria. Se risolverà comunque e starà così diciamo che se risolverà o meno i prossimi guai economici farà dipendere molto il futuro anche di Raffaleao perché al momento il Barcellona sembra la squadra più intenzionata a provare a fare un tentativo per Raffaleao. Comunque come questa ipotesi poi ce ne sono comunque anche delle altre. Oggi però sul tavolo c'è solo un'opzione per Leao e che è il Milan. Lui vuole rimanere al Milan, vuole stare al Milan. Le parole sono belle, sono tante. Spero che ci sia anche la volontà. Diciamo che quello che sta succedendo intorno a Leao non fa bene a nessuno. Non fa bene al Milan, non fa bene a lui stesso. Io l'ho spesso criticato come anche voi, come tanti, come il pubblico, come San Siro perché comunque dispiace. Perché comunque dispiace, perché noi conosciamo il vero Leao, conosciamo le potenzialità del giocatore ed è chiaro che basterebbe veramente poco, veramente poco per far tornare comunque il sorriso a tutti, per fare in modo di gridare il suo nome. Lo sappiamo come il calcio ragazzi. Oggi sei giù, domani fai una partita incredibile, torni di nuovo su. Però non può essere solo una. Non può essere fatta, come dico io, una sorta di ciclo a gobbi di cammello. Devi essere una persona costante, un giocatore costante e credo che solo in questo modo Raffa Leao potrà riprendersi il Milan. Bene, se questa è la volontà che lo faccia. Se questa è la volontà che il ragazzo dimostri. Il Milan dal canto suo, con l'intervento di Furlani, con l'intervento della dirigenza, ha dimostrato di voler essere vicino al giocatore e di credere nel giocatore. Anche se fosse solo per riuscire quantomeno a tenere in alto per quest'annata e aiutare il Milan in tutti i modi a cercare di stare in alto, a cercare di fare al meglio questa stagione. Poi l'estate prossima, ragazzi, si vedrà, girano delle voci un po' folli, secondo me, di uno scambio incredibile fra Leao e Oshmane del Napoli. Quindi Leao al Napoli e l'attaccante del Napoli al Milan. Però in questo momento credo siano solo voci infondate, voci di corridoio. Onestamente io credo che se Leao avesse voglia di ritrovare se stesso la voglia, insomma, la fiducia in se stesso e il sorriso, possa essere un giocatore molto utile. È quello che farà bene i tifosi, ragazzi. Ossia, essenzialmente, vedere un ragazzo ciondolare in campo, vedere un ragazzo svogliato in campo, vedere un ragazzo che non festeggia, che non va sotto la curva, eccetera, 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 chiaro che non fa in modo di farti volere bene. Anzi, ottieni l'effetto contrario. Rafa è quello che ci ha aiutato a vincere lo scudetto con le sue azioni, con i suoi gol, con le sue cavalcate fantastiche e la speranza è che torni ad essere così. Sia per noi e sia anche per un'eventuale eccessione perché se fa un'annata così si svaluta in maniera incredibile, ragazzi. E questo è una cosa che non vuole nessuno. Ma io soprattutto voglio il bene del Milan, come voi anche. E per il bene del Milan vorrei un raffaleao che fosse diverso, che tornasse a essere incisivo, che lavorasse con e per la squadra. Questa sarebbe l'unica soluzione plausibile, che toglierebbe di mezzo tutte le voci, tutte le brutte cose. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzoli belli. Intanto io vi auguro buon proseguimento di giornata. Sempre Forza Milan. Noi ci sentiamo domani e adieu.